Buonasera a tutti e bentrovati con il nostro consueto appuntamento mensile dedicato alla riunione di politica monetaria della Federal Reserve, il nostro Fed Talks e allora da questo momento saremo in diretta naturalmente sulle fonti tv e anche su tutti i nostri canali social per seguire le mosse della Banca Centrale Americana, naturalmente che si è riunita ieri, FOMC di due giorni come sempre e con questa serata attesa per la conferenza stampa di Jerome Powell. Atteso anche questo rialzo dei tassi di interesse, il quarto consecutivo di 75 punti base è quasi dato per scontato, anche se poi noi lo diciamo sempre, io per prima non si dà mai nulla per scontato quando ci sono queste riunioni, anche perché il periodo è veramente un periodo difficile, continua la lotta all'inflazione, Jerome Powell e la Fed hanno iniziato appunto quattro riunioni fa e il ritmo continua serrato, per quello si parla ancora di un rialzo jumbo, così come vedete scritto in sovrimpressione, cioè di 75 punti base fino a portare il costo del denaro al 3,75, dal 3,75 al 4%, ma proprio perché si dà quasi per scontato che il rialzo sarà di 75 punti base, in realtà l'attenzione principale degli analisti e degli operatori del settore, degli investitori e di tutti ovviamente, perché poi tutto questo viene fatto per il controllo dell'inflazione, quindi interessa poi anche il consumatore finale, l'attenzione sarà concentrata sulle parole di Jerome Powell durante la conferenza stampa. A proposito dei rialzi futuri, questa è la cosa fondamentale, perché? Perché si cercherà di capire se l'azione della Banca Centrale Americana proseguirà con questo ritmo serrato, appunto con altri rialzi di tassi aggressivi, oppure se già dalla prossima riunione il ritmo rallenterà, e quindi se i rialzi dei tassi che pur proseguiranno saranno di entità minore. Però, adesso cominceremo a parlare tra poco con i nostri ospiti per capire le attese, il comunicato sarà pubblicato alle 19, quindi non appena uscirà la decisione la vedremo insieme in diretta, un'ora prima per l'ora solare in questo caso, però attenzione perché oggi c'è questo dubbio, perché fino a ieri, fino alla vigilia di questa riunione, si pensava appunto che dalla prossima riunione da dicembre la Fed potesse decelerare il ritmo, ma sono arrivati dei dati macroeconomici, tutto sommato che danno una fotografia dell'economia americana che tiene una fotografia positiva, cioè i dati sul numero delle offerte di lavoro che sono salite a 10,72 milioni sopra i 9,85 milioni delle attese, quindi un dato che mostra un mercato del lavoro saldo, e sapete molto bene che e quanto Powell guardi il mercato del lavoro, giustamente perché dà un'idea di come l'America sta reagendo a questo rialzo dei tassi, e quindi si pensa che questo dato potrebbe portare Jerome Powell e la Federal Reserve ad avere un approccio aggressivo ancora sui rialzi dei tassi di interesse, sopra le attese anche il dato manifatturiero americano nel mese di ottobre, e peraltro sta andando avanti a pieno ritmo la stagione delle trimestrali. Oggi però le borse, e poi cominciamo a parlare con i nostri ospiti, ma insomma un inquadramento va fatto proprio per capire quali sono i dati che potrebbero poi inserirsi nelle previsioni che precedono proprio di qualche minuto il comunicato stampa, la pubblicazione del comunicato stampa. Oggi le borse sono state molto caute, la chiusura dell'Europa è stata negativa, fondamentalmente fatta eccezione per Milano che ha chiuso poco sopra la parità, più 0,03, possiamo vedere anche le chiusure insieme, così andiamo a vedere anche Wall Street, il CAC di Parigi ha ceduto lo 0,81, ovviamente la giornata delle decisioni delle banche centrali vede sempre i listini un po' stare alla finestra, gli investitori naturalmente stare alla finestra, l'Ibex di Madrid cede lo 0,38, il DAX di Francoforte lo 0,61, non fa eccezione il Fuzzi 100 che cede lo 0,58. In questo momento anche i listini americani sono negativi, il Dow Jones cede lo 0,19, l'S&P 500 lo 0,60, il Nasdaq l'1,10 in attesa appunto dei riferimenti che darà la Fed e tra poco lo vedremo insieme. Oggi da segnalare in rialzo anche il prezzo del gas, molto volatile in questo periodo, ovviamente questioni del gas che riguardano principalmente l'Europa, però ovviamente sono tutti indicatori che poi portano ancora di più in evidenza le problematiche legate all'inflazione con tutte le problematiche energetiche e insomma vedremo. Peraltro le aspettative di inflazione per quanto riguarda l'America, misurate dai mercati, sono anche tornate a salire nelle ultime settimane, sono lontane dai massimi di inizio anno, quando hanno toccato anche il 3%, ma dopo che avevano visto un calo intorno al 2,2%, a livelli quasi compatibili con l'obiettivo che si pongono le banche centrali, quindi quello del 2%, si sono portate al 2,4% e è una situazione che va sicuramente monitorata e lo faremo. Quindi come detto, alle 19 ci sarà il comunicato stampa, lo vedremo in diretta, sarà pubblicato il dato attesi questi 75 punti base e poi la conferenza stampa di Jerome Powell alle 19.30. Intanto vi invito a scriverci, siamo in diretta anche su tutti i nostri social, sulle nostre live chat, sulla pagina di YouTube di Le Fonti e anche sulla nostra pagina Facebook, potete commentare e anche dirci cosa vi attendete. Saluto Luigi in regia, rimaneva da salutare il collega che mi seguirà per questa diretta, non so se abbiamo il primo ospite, perfetto, telepatia. Saluto Peter Cardillo con noi per l'apertura di questa serata. Peter è un piacere ritrovarti, buonasera. Grazie. Peter, allora, parto dalla domanda più banale, poi però analizziamo gli altri temi che ho già toccato nelle premesse iniziali. Atteso questo rialzo di 75 punti base, pensi che sarà confermato? Perché non si sono avanzate altre ipotesi? Sì, certo, se non è confermato sarà una sorpresa. Quindi non credo che siamo di fronte a qualsiasi sorpreso da parte del comunicato del Fed. Probabilmente l'unico indizio che possiamo avere è che la Fed aumenterà di mezzo punto nel mese di dicembre. Però non credo che indicheranno che sono pronti per una pausa. Forse questo avverrà verso dicembre, perché penso che le banche centrali vorranno ancora raccogliere informazioni a riguardo dell'inflazione e specialmente del mercato di lavoro. Quindi avremo i dati di inflazione questo mese e il dati di lavoro questo venerdì e poi il resto è dicembre. Dunque una conferma che l'inflazione ha finalmente raggiunto un livello picco vuol dire che la Fed probabilmente con tutta probabilità annuncerà una pausa a dicembre. Però non credo oggi. Ecco, infatti guarda, appositamente è apparso un titolo che riassume un po' quello che già tu stavi dicendo e ti pongo anche un'altra domanda. È una riflessione che stavi già facendo tu Peter e ovviamente è una riflessione che stanno facendo tutti i mercati. Guardano in realtà ai futuri rialzi. Cioè si chiedono se, quindi attenzione estrema a Powell, ci si chiede se Powell darà qualche indicazione rispetto ai futuri rialzi. Ma tu mi pare di capire che giustamente hai detto no perché dovrà prima monitorare altri dati macroeconomici anche il dato stesso sull'inflazione prima di capire se rallentare o meno. E peraltro, ti aggiungo anche questo così ti lascio alle tue riflessioni, questo auspicio cioè che la Fed a dicembre possa rallentare oggi sembrerebbe essersi un po' raffreddato dopo i dati sul mercato del lavoro che hanno dato una fotografia dell'economia americana comunque che tiene. E quindi questo fa pensare che Powell potrebbe continuare nella politica aggressiva anche nella coda finale dell'anno. Ecco, una riflessione su questo. Oggi pensi che dirà qualcosa? No, hai detto che dovrà prima monitorare altri dati. Sì, io non mi aspetto un comunicato meno falco dell'ultimo comunicato. Bisogna vedere ciò che dirà durante la conferenza stampa. però anche lì non credo che lui sarà così, che sarà meno falco dell'ultima volta perché giustamente la lotta contro l'inflazione è ancora in pieno e quindi lui deve convincere i mercati come a un certo punto ha già convinto nel passato che la Fed deve assolutamente bassare l'inflazione. A portarlo al 2% l'anno prossimo, cioè verso la fine dell'anno prossimo, secondo me è quasi impossibile. Almeno che non ci troviamo di fronte a una forte recessione che ci porta a un stato di deflazione. Questo secondo me non avverrà, una recessione avverrà, però sarà una recessione abbastanza mita, leggera più che altro e quindi vuol dire che l'inflazione probabilmente scenderà verso 4-5%, però non credo più di quello. Allora, quindi tu dici che la recessione potrebbe esserci leggera, però abbiamo visto questi dati macroeconomici che sembrano dare invece, e lo chiedo a te, che vivi quotidianamente l'economia americana, sembrano dare una fotografia, se non positiva, però comunque sicuramente non negativa, forse come potevamo aspettarci, sia per quanto riguarda il numero delle offerte di lavoro che proprio sono state pubblicate oggi, che sono state pubblicate sopra le attese e poi c'è stato anche sopra le attese il manifatturiero, insomma, quindi americano nel mese di ottobre. Peraltro siamo anche nel periodo delle trimestrali, anche se non sono tutte brillanti, diciamo, come forse potevano essere nelle attese, però potrebbero dare l'infa al mercato. Insomma, la situazione dell'economia americana non sembra così negativa, Peter, ti chiedo conferma. E recessione leggera potrebbe esserci a questo punto se la Fed dovesse continuare con questa politica da falco, insomma, come dicevi tu prima? Sì, certo, beh, questo è facile da rispondere, perché in effetti sì, è vero che abbiamo i dati macroeconomici che non coincidono con le prospettive di una recessione, però ci sono alcuni settori che probabilmente sono già in recessione. Riferisco al pilastro dell'economia americana, cioè il settore immobiliare. Basta vedere quei numeri e la fiducia da parte dei costruttori è a terra e quindi sono già in recessione. Appunto, abbiamo visto gli ultimi dati delle vendite in case, sono crollati. Il problema attualmente è che, cioè il problema nel senso che non abbiamo i dati che confermano una recessione o che puntano verso una recessione, è che il consumatore americano rimane abbastanza forte. Ecco, questo è dovuto in parte al fatto che finora l'effetto totale dei rialzi dei tassi ancora non sono stati subiti dal consumatore americano. Quindi sappiamo benissimo che il mercato di lavoro rimane forte. Sappiamo benissimo che c'è stato un aumento di salari l'anno scorso, cioè dai minimi e sappiamo benissimo che i salari vengono aumentati con nuovi posti di lavoro. Cioè i lavoranti che cercano il lavoro chiedono di più e la scassità delle persone certamente vuol dire che consenza a un aumento di salari. E quindi questa è la ragione perché vediamo un consumatore che rimane molto forte. però quando l'ultimo rialzo, il rialzo di oggi, il rialzo di dicembre, finalmente toccherà il portafoglio del consumatore americano, diciamo quest'altra parte che è due terzi dell'economia americana crollerà e quindi ci porterà in recessione. E infatti, bravo, perché tu hai detto una cosa giustissima, non avevo dubbi, però questa cosa non si sottolinea spesso. Io anche in altri interventi ho ricordato come l'inflazione venga anche definita un killer che si muove lentamente, nel senso che poi gli effetti, è quello che dicevi assolutamente tu, si vedono solo dopo, soprattutto sul consumatore finale. Quindi ovviamente, sì, sentiamo, ovviamente avvertiamo e vediamo concretamente ogni giorno rialzo dei prezzi, ma poi le penalità più grandi arrivano successivamente, soprattutto poi se l'economia viene rallentata dall'azione delle banche centrali. Questo è un ottimo punto e spunto perché, ripeto, lo diciamo sempre troppo poco. Senti, i mercati, oggi l'Europa è a chiuso debole, in attesa, dopo facciamo anche un confronto magari con te, mi interessa sapere la tua opinione mettendo a confronto la situazione americana e quella europea. Prima però restiamo ancora sui mercati americani, in questo momento il Dow Jones è leggermente salito sopra la parità, mentre invece l'S&P 500 e il Nasdaq restano negativi. Perché? Che cosa temono di più secondo te in questo momento i mercati? Io penso che i mercati hanno già scontato il fatto che probabilmente ci sarà qualche indizio che la Fed incomincerà a rallentare. Io non sono così sicuro di questo, come ho detto all'inizio del programma. Quindi se effettivamente non ci sarà, io penso che questo mercato si troverà di fronte a una situazione negativa, cioè possiamo benissimo rivisitare i minimi di quest'anno, cioè gli ultimi rali che abbiamo avuto, secondo me saranno in pericolo. In pericolo, ok, ok, ok. E allora dicevo Peter, vorrei anche fare un discorso con te relativamente al confronto tra l'America e l'Europa. Allora, ovviamente il Fondo Monetario Internazionale nelle ultime settimane ci ha dato delle previsioni ovviamente non troppo confortanti in generale e a livello globale, a partire dall'America, ma soprattutto per l'Europa. Abbiamo parlato insomma con te di una eventualità di recessione leggera, più leggera, poi dipende ovviamente diciamo che tutte le previsioni che si possono fare in questo momento sono solo provvisorie e le stime sono provvisorie. Per l'Europa la situazione è peggiore anche perché c'è tutto il discorso della crisi energetica e quindi con il conflitto che è vicino anche geograficamente. Insomma, come vedi, qual è la differenza sostanziale secondo te tra l'Europa e l'America? Sì, certo che l'Europa è più vicino a recessione, i dati quasi quasi confermano che probabilmente l'Europa è già in recessione. Quando dico l'Europa, anche se l'Ingliterra non fa parte dell'Eurozona, includo anche l'Ingliterra, certamente ci sono molti problemi, ma a parte il fatto dell'Ingliterra, ricordiamoci, cioè la Gran Bretagna, ricordiamoci che la Banca Centrale Europea non è a metà strada diciamo dal raggiunto punto per portare giù l'inflazione, che ha superato i livelli, cioè il massimo del livello qui negli Stati Uniti, mentre noi, mentre la Banca Centrale americana è quasi pronta ad arrivare diciamo alla fase di aumento di tasse di interessi. e quindi se già vediamo i numeri deboli in Europa senza che la Banca Centrale Europea abbia già raggiunto il picco degli aumenti dei tassi, è ovvio che la crisi si senterà di più. Poi c'è l'altro fattore, il problema energetico, quindi per quando sarà un peso per noi, certamente molto molto di meno in confronto all'Europa. Assolutamente sì, ma infatti poi oltretutto la Banca Centrale Europea ha iniziato un po' più tardi rispetto alla Fed e adesso l'inflazione in Europa, ricordiamo, stima preliminare al 10,7%, quindi non solo ha superato la doppia cifra, ma ha superato anche le attese che prevedevano un 10,2% che sarebbe già stato, e peraltro Christine Lagarde insomma non le ha mandate a dire, Peter ha detto noi continueremo perché comunque l'inflazione deve scendere e l'obiettivo del 2% sembra veramente essere molto lontano, così come per l'America ovviamente, però in Europa i problemi sono più importanti. Allora Peter ti chiedo di stare lì ovviamente, andiamo due minuti in pubblicità, poi torniamo ancora a qualche riflessione precomunicato e poi naturalmente Peter aspettiamo con te la decisione di politica monetaria per capire se è confermato questo rialzo di 75 punti base. Tra pochissimo voi restate con noi, vedo che vi state già collegando in moltissime, arriviamo tra pochissimo, Peter arriviamo. Grazie Eccoci tornati le fonti FedTalks e allora in diretta naturalmente per seguire le decisioni di politica monetaria della Federal Reserve, della Banca Centrale Americana, mancano esattamente 4 minuti, siamo precisi per la decisione sul tasso di interesse che è atteso, ovviamente l'abbiamo già detto a 75 punti base, ma la tensione è proprio già rivolta ai rialzi successivi. Allora con noi c'è ancora Peter Cardillo, Peter appunto stavamo dicendo quali potrebbero essere i prossimi step, tu pensi quindi, perché c'è qualche amico che sostiene che a dicembre la Fed potrebbe essere un po' meno falco, tu sostieni che oggi Powell si mostrerà ancora bello aggressivo e poi invece si vedrà, non darà indicazioni precise su quello che farà i prossimi mesi? Certo, io penso che rimana falco, però ci potrà essere qualche indicazione che sono pronti di aumentare di mezzo punto a dicembre. quello potrebbe essere interpretato dai mercati come un comunicato meno falco, però che la Fed abbandona il tema di essere aggressiva, dubito molto. ok, peraltro anche gli step che per esempio leggevo poco fa, poco fa sono stati pubblicati in queste ultime ore di Goldman Sachs, secondo Goldman Sachs la banca centrale alzerà i tassi 50 punti base in dicembre per poi ritoccarli ulteriormente al rialzo di 25 punti base a febbraio e marzo quando il costo del denaro arriverà al 5% e toccherà il 5%, un livello più alto di quanto era stato stimato in precedenza, ovviamente questo di fronte alla Fed e alle decisioni della Fed sono moltiplicati timori di una recessione, ma è quello che stavamo già valutando poco fa, intanto io sto guardando perché veramente manca un minuto, due minuti alla decisione, che cosa, mentre l'aspettiamo, in caso ti interrompo ovviamente appena viene pubblicato il dato, Peter, che cosa ti senti di dire agli investitori in questo periodo particolare dell'anno e nel mezzo, nel pieno delle decisioni delle banche centrali? Io resto fiducioso che il rally possa continuare, come ho detto è probabile che se la Fed rimane falco senza nessuna indicazione, che possiamo rivisitare i minimi di quest'anno, però io penso che durante la fine di questo mese, verso dicembre, normalmente sono mesi positivi per il mercato e quindi tutto dipende, diciamo, di quello che succederà nel mercato obbligazionario. Io sono convinto che i rendimenti hanno già toccato il massimo di quest'anno, quindi se effettivamente mi danno ragione, io penso che il rally può continuare, perché in effetti ricordiamoci che la stagione degli utili finora è stata abbastanza positiva e quindi questo è il punto fondamentale del mercato obbligazionario. Certo. Allora Peter, ti chiedo la cortesia, abbiamo un piccolo ritorno audio, forse hai accesa la nostra diretta sul nostro sito, se così fosse ti chiedo la cortesia di chiudere il sito o comunque di togliere l'audio, così almeno non abbiamo il rientro più che altro perché così ti sentiamo meglio, perché quando parli ovviamente si sente un rientro. Allora, manca un minuto, aspettiamo perché adesso arriverà la decisione sul tasso di interesse dei fondi Fed, intanto gli indici americani, a parte il Dow Jones che resta sopra la parità più 0,07, l'S&P 500 cede lo 0,35, il Nasdaq cede lo 0,87, quindi come possiamo vedere, come abbiamo già detto, insomma gli investitori restano cauti e non a caso ho appena chiesto al mio ospite che cosa si sente di suggerire in questo momento agli investitori, gli investitori restano cauti non tanto per quello che accadrà questa sera, anche se io sono sincera, sono molto curiosa di leggere il comunicato e lo leggeremo insieme naturalmente per metterlo anche a confronto con il precedente, perché secondo la maggior parte degli analisti e degli operatori questa riunione sarà un po' tra virgolette la copia di quella precedente, infatti anche Peter Cardillo lo sosteneva perché appunto Powell evidentemente si mostrerà ancora fa il covero, cioè anche il comunicato insomma non credo che subentrerà qualcosa di particolarmente diverso, ecco forse si soffermerà maggiormente sul mercato del lavoro Powell, cosa che fa spesso Peter? Sì certo, questo è molto probabile, io penso che quello che dobbiamo tenere sotto occhio subito, quello che sta succedendo nel mercato obbligazionario è certamente il biglietto verde, cioè nel foreign exchange. Ecco Peter, è uscito in questo momento confermato il rialzo di 75 punti base, questo è stato confermato quindi ecco nessuna sorpresa, eccola qui la Fed rialza i tassi di 75 punti base, Peter è come da attese, come da previsione? Sì certo, questo non era sorpreso per i mercati, adesso vediamo appunto se c'è qualche indicazione per il prossimo rialzo a dicembre, oppure qualche parolina che potrebbe indicare che la Fed incomincerà a rallentare, questo è diciamo la parola chiave nel comunicato, io certo non ho il comunicato davanti. Adesso lo sto aprendo, intanto appunto era solo per un commento rispetto a questo. Però partanto guardando la prima reazione dei mercati vediamo che il dollaro scende. Ecco andiamo a vederlo mentre recuperiamo il comunicato, assolutamente, perché peraltro stavi anche parlando appunto del dollaro, dell'euro-dollaro, guardiamo, ecco qua, sì è vero l'euro il recupero in questo momento, Peter lascio commentare te e intanto recupero il comunicato. guardando la prima reazione dei mercati vediamo che il dollaro scende. Ecco andiamo a vedere mentre recuperiamo il comunicato, assolutamente, perché peraltro stavi anche parlando… Peter però io non ti sento, non ti sento più e sento il mio ritorno. Sì, sì, adesso, adesso va bene. Perfetto, perfetto, adesso ti sento, dimmi, ecco, dicevi l'euro e il recupero in questo momento. Sì, ho visto una fase nel comunicato che potrebbe essere indicativo del fatto che incominciano a pensare verso una pausa, cioè cumulative tightening, che vuol dire che praticamente monitoreranno i prossimi dati e poi dopo di quello probabilmente cominciano a rallentare. Guarda, leggiamo l'inizio del comunicato, lo leggiamo insieme, lo traduco insieme a voi, qui si parte subito dagli indicatori macroeconomici, che è quello che dicevamo poco fa, gli indicatori recenti indicano una crescita modesta della spesa e della produzione, i guadagni di lavoro hanno mostrato invece, insomma, uno stato solido negli ultimi mesi, il tasso di disoccupazione è rimasto basso e poi si parla subito dell'inflazione. L'inflazione resta elevata e questo naturalmente riflette gli squilibri della domanda e dell'offerta legati alla pandemia, all'aumento dei cibi, ai prezzi dell'energia, ecco, tutte riflessioni che stavamo facendo anche prima con te e più ampie pressioni sui prezzi. E poi torna il comunicatore, il secondo paragrafo, parla della guerra, del conflitto tra Russia e Ucraina, la guerra della Russia contro l'Ucraina sta causando enormi difficoltà umane e economiche, la guerra e tutto quello che è correlato ad essa sta creando ulteriori pressioni al rialzo sull'inflazione e queste stanno pesando sull'attività economica mondiale. Naturalmente il Comitato è molto attento a rischi dell'inflazione. E poi, ovviamente, subito dopo, guardate, c'è il discorso del rialzo, quindi la decisione di politica monetaria. Andiamo avanti, adesso poi il resto lo leggiamo anche più avanti perché voglio l'ultimo commento da Peter prima di salutarlo. Appunto, il Comitato cerca di ottenere la massima occupazione e inflazione al tasso del 2% nel lungo periodo. Ecco, ti chiedo cosa si intende secondo te per lungo periodo. A sostegno di questi obiettivi il Comitato ha deciso di alzare l'intervallo obiettivo appunto i 75 punti base. Peter, cosa si intende secondo te lungo periodo per tornare al 2%? Appunto, parlavamo almeno della prima parte dell'anno prossimo, del 2023, che sarà interessato da questi interventi. Il 2% probabilmente non verrà fino al 2024, se arriverà nel 2024. Però leggevo un po' il comunicato lì che era sottolineato che la Fed ha indicato che vogliono portare il Fed post rate a 3,75, 4,25%. Quindi già ci siamo. Ecco, se è così vuol dire che un altro vento di mezzo punto è poi la pausa. E' certo, assolutamente sì. Sì, sì, ecco, è quello che hai sottolineato, esattamente. E poi qui parla ancora di riportare l'inflazione all'obiettivo del 2%, ma adesso lo leggeremo in più parti. Intanto io saluto Peter Cardillo, grazie per essere stato con me davvero. E a presto sulle fonti TV. Ti lascio sicuramente a una serata con Jerome Powell. La passeremo tutti con lui, così magari a posteriori commenteremo il suo atteggiamento. Grazie Peter, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie. E allora intanto, mentre aspettiamo che si colleghi il prossimo ospite, peraltro con il quale parleremo dell'andamento dell'eurodollaro, andremo a vedere che cosa sta succedendo al cambio eurodollaro, che seguiremo come sempre facciamo anche durante la conferenza stampa di Jerome Powell. Torniamo sul comunicato, andiamo a leggere come prosegue. Naturalmente la banca centrale americana si stava concentrando sull'inflazione, il comitato anticipa i continui aumenti della fascia con l'obiettivo da raggiungere del 2% e gli aumenti dei tassi di interesse saranno appropriati per raggiungere una posizione monetaria sufficientemente restrittiva e qua si ripete, insomma, da riportare l'inflazione al 2%. Andiamo avanti, vediamo qui cosa si dice, nel determinare il ritmo dei futuri incrementi nella fascia, il comitato terrà conto dell'inasprimento della politica monetaria e anche i ritardi con cui la politica monetaria colpisce l'attività economica, inflazione e sviluppo economico e finanziario, quindi anche le tempistiche, insomma, perché poi è un po' quello che dicevamo prima con Peter Cardillo, ovviamente ciò che viene fatto oggi, sì, evidentemente poi sul consumatore finale si vedrà più avanti, insomma, quindi sicuramente anche tutti gli effetti dovranno essere in qualche modo anticipati ma si potranno vedere strada facendo e poi ancora il comitato continuerà riducendo le sue partecipazioni in titoli del tesoro e debito di agenzia e garantito da ipoteca di agenzia titoli come descritto nei piani per la riduzione delle dimensioni del bilancio della Federal Reserve che sono stati emessi a maggio e poi naturalmente ecco ancora, guardate come si insiste su questo punto, ma insomma era abbastanza ovvio, cioè il comitato è deciso e fortemente impegnato a far tornare l'inflazione al 2%, all'obiettivo del 2% e dopo leggiamo l'ultimo pezzetto, non so se c'è Alessandro Manunta in collegamento. Ciao Manuela, buonasera. Eccolo qui, me lo sentivo, ti avvertivo che stavi ascoltando. Allora Alessandro, tra poco andremo in modo operativo a vedere l'euro-dollaro e ciò che ti compete, ti chiedo insomma se ti aspettavi qualcosa di diverso o se effettivamente io prima che uscisse la decisione e prima di leggere il comunicato avevo un po' definito quelle che erano le mie attese, cioè che questa riunione potesse essere un po' la copia carbone di quella precedente. Assolutamente, sorprese praticamente nessuna Manu, tanto è vero che anche qua secondo me i mercati c'è davvero un attimo di calma per capire esattamente cosa accadrà perché questa notizia, noi sapevamo benissimo, era quasi certo che avrebbero portato, aumentato i tassi di 0,75, quindi in realtà questa non è una notizia che sorprende nessuno. Sarà invece molto più interessante la conferenza di Powell per riuscire a capire con che toni approccerà questa volta, se avrà toni ben decisi come ormai negli ultimi mesi, nell'ultimo anno o se per la prima volta, come qualcuno si aspetta, avrà dei toni un po' più, come dire, trattenuti, contenuti. Certo, esatto, perché poi ci si chiede anche, Alessandro, e questo è ciò che sembra interessare maggiormente chi attende le parole di Jerome Powell, se Jay Powell darà qualche indicazione sui rialzi prossimi, cioè al di là di questo, perché appunto questo era un po' un non-evento, come si suol dire, quindi sicuramente quello che dici tu, il tono che utilizzerà, ma credo che sia, vedrai almeno, poi se sarà diverso lo diremo strada facendo, ma insomma sarà un po' simile a quello che ha avuto nella precedente riunione, però se darà, e i giornalisti glielo chiederanno sicuramente, se nei prossimi mesi è già stato più o meno deciso il rialzo dei tassi. Intanto saluto Augusto che, e adesso ti do la parola, Alessandro, voleva sapere una precisazione da Peter Cardillo che ho già salutato, ma poi ci sarà Jan Ergas che si collega con noi dall'America, per quanto riguarda l'incursione, diciamo, delle elezioni di mid-term, come andrà a finire, insomma, poi parleremo anche di questo, quindi grazie per i vostri messaggi, poi cercheremo di rispondere anche a tutte le vostre domande. Ecco, tu pensi che darà delle indicazioni sui rialzi futuri, oppure appunto attenderà il dato sull'inflazione, i dati sull'inflazione, i dati macroeconomici, che tutto sommato per ora danno una fotografia ancora solida e non troppo negativa dell'economia americana? Guarda, il presentimento, Manu, è che lui voglia attendere, però questo è solo un presentimento, perché poi in realtà, d'altra parte, sarebbe una sorpresa se lui invece iniziasse veramente già oggi a comunicare l'eventuale aumento dei tassi. Questo muoverebbe i mercati in maniera molto prepotente oggi, quindi onestamente non me lo aspetto, però se devo pensare alla volatilità forse lo spero, possiamo dire così. Sì, sì, sì. Allora, senti, senti, intanto non abbiamo ancora letto l'ultimo pezzettino del comunicato, lo vediamo, ma insomma più o meno conclude, un po' riassumendo quello che abbiamo letto finora, nel valutare l'orientamento appropriato della politica monetaria, il comitato continuerà a farlo monitorando tutte le implicazioni e le prospettive economiche. Ecco qui il comitato è disposto ad adeguare l'orientamento della politica monetaria, questa è un po' una frase di prassi che compare sempre in modo appropriato, se emergessero dei rischi che potrebbero ostacolare il raggiungimento degli obiettivi del comitato. Quindi insomma, è quello che dicevamo, è ovvio che bisogna monitorare, si prende una sorta di strada, ma poi se ci fossero rischi eccessivi per l'economia, il comitato dovrà tenerne conto. Infatti poi si legge ancora, terrà conto di un'ampia gamma di informazioni, letture sulla salute pubblica, al mercato del lavoro, condizioni, inflazione, aspettative di inflazione, ecco le aspettative di inflazione che l'abbiamo detto prima sono tornate lentamente a salire nelle ultime settimane e poi gli sviluppi internazionali, perché nel comunicato si è fatto riferimento al conflitto. Euro-dollaro, Alessandro andiamo a vedere che cosa sta succedendo e dopo vediamo anche la reazione dei mercati, allora lo dicevamo già poco fa, l'euro sta recuperando, siamo ancora sotto la parità nel cambio euro-dollaro 0,9940, però insomma è l'euro che si sta rafforzando o il dollaro che si sta indebolendo dopo la decisione della Fed? Allora in questo momento è un po' il dollaro che si sta indebolendo, ma questo sta succedendo da 12 minuti, quindi non è un dato super eclatante, diciamo che c'è questo rimbalto dell'euro che è un po' in questo momento tornando tranno speranza, più che altro ti posso dire che a livello di gestionali, quindi a livello di fondi, i fondi questa settimana hanno comprato un bel po' di euro, quindi non hanno venduto dollari però e questo è un po' l'anomalia che ci aspettavamo invece di vedere, ma sicuramente hanno incrementato le loro posizioni long sull'euro, quindi già questo inizia a essere un primo segnale. È chiaro che ci aiutiamo magari su un time frame daily, Manu, per iniziare. Sì, io sono già sul time frame daily, sai? Perfetto, ottimo perché io non vedevo il tuo schermo. Ok, non ti preoccupare, sì. Ok, abbiamo questa zona su un time frame daily, appunto in zona 0,995, abbiamo questo livello chiave che attualmente sta fungendo per la terza seduta consecutiva da resistenza per quanto riguarda euro-dollaro e c'è bisogno proprio che l'euro riesca a rompere questa resistenza. Se l'euro dovesse rompere questa resistenza, a questo punto io inizierei a poter immaginare una piccola fase di recupero da parte dei mercati, però deve rompere zona 0,995 e deve farlo per quanto mi riguarda oggi, quindi già dopo la conferenza di Powell o durante la conferenza di Powell abbiamo bisogno di questa rottura dell'euro-dollaro per intanto iniziare a rivederlo intorno alla parità e poi perché no magari andare a cercare di riprendere zona 1,0,2. Ecco, cosa potrebbe andare a incidere su questo? Cioè se dovesse appunto cambiare qualcosa durante la conferenza stampa di Powell, cosa potrebbe far rafforzare l'euro, indebolire il dollaro insomma a tuo parere? L'annuncio dei prossimi tassi o altro? Sì, decisamente l'annuncio dei prossimi tassi, anche perché comunque ricordiamoci che l'America non è esente alla crisi economica e anche loro potrebbero scontare un rischio recessione, quindi per quanto in questo momento quest'anno il dollaro sia veramente forte, attenzione che non ci possa essere anche un cambio sotto quell'aspetto e quindi anche un cambio di trend. Sicuramente se annunciasse e si concentrasse sul tasso di interesse adesso durante la conferenza questo potrebbe essere un bello slancio per indebolire il dollaro e sì, molto probabilmente per vedere l'euro finalmente sopra la parità. Certo. C'è un altro scenario. Sì, dimmi, dimmi, dimmi che poi dopo leggo una riflessione di un amico, però vai, vai avanti Alessandro. Qual è l'altro scenario? In questo momento è vero che dobbiamo riuscire a stare sopra zona 0,995, però dall'altra parte dobbiamo anche stare sopra 0,984-0,985 perché troviamo un livello chiave di Fibonacci e soprattutto un importante supporto volumetrico che per me è il POC in questo caso, quindi il punto di controllo dei volumi. Questo, dovesse rompere questa zona per l'euro dollaro sarebbero di nuovo problemi perché rischieremo di nuovo di trovarlo prima in zona 0,98 e poi addirittura magari anche in zona 0,97, quindi è importante che durante la conferenza non venga mai violato questo livello e anzi, come detto prima, che vada a rompere zona 0,995 così da poterlo rivedere di nuovo sopra la parità. Ok, ok, va bene. Morris scrive, ma se tutti gli analisti parlavano chiaramente di un'unica possibile misura per arriginare l'inflazione, cioè destruction of demand, allora la domanda è quanto la vogliono distruggere la domanda, gioco di parole, a parte sempre di economia di guerra si tratta. Cosa ti senti di dire, Morris? Ma la vogliono distruggere. Sì, no, è una riflessione basata ovviamente su una situazione economica molto complicata, su questo ci rendiamo conto e peraltro con tante varianti e variabili che si sono inserite, cioè non abbiamo fatto in tempo praticamente a terminare se vogliamo tornare indietro la coda della precedente crisi, poi il Covid, poi tutta l'attività che si è fermata, quindi qui tutto il disequilibrio tra domanda e offerta, poi stavamo ripartendo, è arrivato il conflitto, anzi ha cominciato l'inflazione lentamente con, come dire, gli interventi anche un po' tardivi, poi il conflitto, insomma, quindi è chiaro che la situazione è molto complicata. Ma guarda, faceva una riflessione giusta, forse sull'unica cosa in cui tutti noi analisti siamo d'accordo, è stato un anno terrificante, nel senso, ma non solo per l'economia, non solo per la guerra tra Russia e Ucraina, ma anche noi a livello operativo è stato veramente un anno ed è ancora un anno molto complesso, di sicuro il 2021 è stato un anno molto più frittante per quello che c'è riguardato, è un mercato d'oggi dove c'è molta confusione ancora adesso, quindi anche esprimersi in questo momento, secondo me è molto azzardato dal mio personale punto di vista, aspettiamo, aspettiamo, vediamo cosa può succedere oggi. Sì, no, 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 stavo guardando che intanto gli indici americani sono in positivo, prima erano più deboli, sicuramente avevamo l'S&P 500 e il Nasdaq sotto la parità, il Dow Jones era leggermente sopra, adesso sono tutti e tre con semaforo verde, il Dow Jones più 0,87, l'S&P 500 più 0,33, il Nasdaq più 0,16, che cosa potrebbe aver convinto almeno per ora i mercati a fare comunque questo piccolo rimbalzino rispetto all'andamento, intendo dire della giornata, perché poi queste giornate insomma sono anche state tutto sommato positive per i mercati. Assolutamente, Manu guarda, dici bene, stanno risalendo un po' gli indici in questo momento, ma è un po' tutto correlato, perché sale l'euro-dollaro, sale l'asterina contro il dollaro, l'Australian contro il dollaro, ogni Zilano addirittura guadagna l'1,07% in questo momento, quindi tutti i mercati in questo momento, almeno in questi primi 18 minuti dal comunicato, hanno avuto questa sensazione positiva. Da che cosa deriva, mi chiedi? Deriva secondo me da un dato, ti ripeto, scontato sulla decisione dei tassi di interesse. Sapevamo già e ci si aspettava che il tasso dello 0,75% non è stata una grossissima novità per rafforzare il dollaro, che era qualcosa che probabilmente i mercati avevano anche già scontato, quindi in questo momento c'è questo rimbalzo. Poi anche a livello ciclico dovevamo avere un massimo in questo momento addirittura sulla sterlina, che anche qua Manu apre una parentesi velocissima sulla sterlina. Sì, la vado a prendere, che cambio prendiamo? Eurosterlina, dollaro-sterlina, cosa preferisci? Sì, sterlina contro dollaro. Sterlina contro dollaro, va bene. Cosa, esatto, dimmi, dimmi. Il primo H1 diventa molto interessante, qua vedere come sul comunicato, nel momento del comunicato, la sterlina rimbalza in maniera importante, fa questa candela di 65 pips e li fa in pochissimi secondi, oltretutto andando a prendere un livello piave, ovvero 1,156,50. Questo è una resistenza volumetrica, oltre a combaciare con 61,8 di Fibonacci, livello storico per i ritracciamenti della sterlina, che va anche in doppio massimo sul massimo appunto che ha preso ieri alle 13, sempre in quella zona, sempre 1,156. Quindi anche qua, come per il discorso dell'euro-dollaro, questa zona, la sterlina deve violare, si deve portare assolutamente in zona 1,162. Non succedesse questo, oggi e anzi anche in breve, quindi da qua un paio d'ore, il rischio che è di nuovo di vedere la sterlina in zona 1,14, 1,13,5. Sì, e poi vabbè, in Gran Bretagna ci sono anche tutte altre vicende che vanno a influenzare in questo momento, Alessandro? Sì, decisamente. Diciamo che momentaneamente, ma non sai, sì, le vicende sicuramente vanno a influenzare più, rimango più. Adesso si è un po' stabilizzata la situazione, ovviamente, però lì si è rischiata l'instabilità politica, cioè c'è stata, però diciamo che la situazione sembra essere rientrata, però chiaramente appunto la domanda era relativa al fatto che potrebbero vedersi degli scossoni proprio anche per quelle vicende, diciamo così. Sì, anche se ti dico, potrà incidere magari su qualche movimento a livello intraday, a livello quasi di scalping, ma credo che in questo momento la palla ce l'abbia proprio il dollaro e tutto dipende da quello che succederà a Powell, perché in quel momento, da quello che dirà Powell, perché in quel momento se il dollaro dovesse veramente indebolirsi tanto, la sterlina, anche se non in ottime condizioni, comunque seguirebbe i correlati, quindi l'euro, l'Australia e il New Zealand. Ok, intanto ritorniamo sull'euro-dollaro, prima di salutare Alessandro Manunta vediamo appunto come continui a salire, però adesso siamo 0,9943, sarà interessante vedere quando comincerà a parlare Powell, perché dalle prime risposte soprattutto che darà ai giornalisti, perché sai più che la sua oratoria singola, Alessandro, io credo che sia più interessante e si è più magari recepito il messaggio che arriva dalle risposte alle domande che gli vengono fatte, che sono più mirate, sai il suo discorso è preparato, tra virgolette, e segue un po' il corpione del comunicato e di ciò che è emerso nel FOM, mentre invece appunto le domande vanno un po' più anche a stanare l'uomo Powell, quindi sarà interessante quello. Comunque ti aspetti un Powell Falco? Mi aspetto un Powell Falco, il rischio è quello, e dovesse essere di nuovo un Powell Falco a questo punto l'unico scenario che ci possiamo immaginare, ma non dovesse succedere così e che noi ci aspetta un fine anno con il dollaro che continuerà a rinforzarsi sempre di più. Ok, allora Alessandro grazie intanto per questa serata, noi ci sentiamo nei prossimi giorni, perché effettivamente siamo a fine anno, per capire anche come i mercati reagiranno in questa ultima parte dell'anno, dove notoriamente si comincia anche a parlare di rally, ma insomma andremo a vedere il dollaro, come si comporterà e da lì faremo tutta un'altra serie di riflessioni. Adesso attendiamo Powell. Grazie Alessandro Manunta, come sempre per la collaborazione e a presto. Grazie a voi, buona conferenza, buon trading. Grazie mille anche a te. Allora intanto voi continuate a scriverci su le nostre live chat di YouTube, di Facebook, siamo anche sugli altri social, naturalmente sul nostro sito lefonti.tv. Andiamo in pubblicità, tra poco ci collegheremo con l'America, con Jean Ergas e poi attenderemo naturalmente la conferenza di Jerome Powell esattamente tra 8 minuti, sono le 19.22, alle 19.30 arriverà Jay Powell e lo seguiremo con la traduzione simultanea. A tra poco. Grazie a tutti. Grazie a tutti.